Nei prossimi giorni è ufficiale, già da qualche ora tornerà il doppio senso su Corso Vittorio Emanuele, Assessore Cuzzi, una decisione che non ha trovato tutti d'accordo e che ha anche determinato le dimissioni dell'ormai ex Assessore Civitarese. Lei è stato tra i fautori del ritorno del doppio senso sulla più importante strada di Pescara. Perché? Noi abbiamo preso un impegno in campagna elettorale, era un punto nel nostro programma, quello della riapertura di Corso Vittorio Emanuele a doppio senso di marcia. Abbiamo ereditato una strada monca, una sorta di mammalucco privo di qualsiasi senso. Abbiamo provato in questi anni una sperimentazione col senso unico sud-nord e con la chiusura nel fine settimana, ma questo non ha trovato il favore della città e soprattutto della categoria dei commercianti che per anni ha sofferto l'ingiunzione della crisi, questa crisi che ha coinvolto tutto il paese dal 2007 e che oggi fortunatamente è superata nella nostra città perché i dati sul commercio ci portano a dire che c'è una nuova rivitalizzazione dell'area anche con lo sviluppo del centro commerciale naturale e con gli investimenti che abbiamo fatto. Abbiamo incontrato le associazioni di categorie e i commercianti appunto per ristabilire il naturale accesso dalla città anche nella direzione nord-sud. È una cosa che abbiamo fatto anni fa appena insediati anche su via Regina Margherita, ristabilendo l'accesso su via Nicola Fabrizio, io credo che sia una cosa buona e giusta. Del resto per il trasporto pubblico di massa c'è tempo, c'è tempo affinché gli autobus iniziano a percorrere la strada parco e poi si possono immaginare anche delle soluzioni alternative che attraversino la città in maniera diciamo più garbata.